Il 5 dicembre prossimo parte il bando che darà l'autosufficienza energetica alle famiglie lucane. Ecco le principali cose da sapere. Chi può accedere ai benefici? Tutti coloro che non hanno un PDR attivo, cioè un contatore gas metano, e che sono titolari di un contratto di energia elettrica ad uso domestico. Chi sono i beneficiari? Tutti proprietari, comproprietari o titolari di usufrutto di unità immobiliari ubicate nel territorio della Regione Basilicata e utilizzate come residenza anagrafica. Quando parte il bando? Il 5 dicembre del 2022. Quando scade il bando? Il 31 dicembre del 2023. Oppure fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Come funziona? Le risorse vengono prenotate dall'operatore per nome e per conto del beneficiario, indicando la tipologia di intervento. Quando vengono erogate le risorse? Dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda di erogazione del contributo, che può essere effettuata sia dal beneficiario che dall'operatore economico. Quali sono gli interventi ammessi? Fotovoltaico o microeolico, per una potenza non inferiore a 3 kW, per un finanziamento fino a 5.000 euro. Impianto di accumulo per una capacità non inferiore a 4,5 kWh, per un finanziamento fino a 5.000 euro. Solare termico senza limiti di kW, per un finanziamento fino a 5.000 euro. Pompa di calore, se già presente un impianto fotovoltaico, per un finanziamento fino a 5.000 euro. Pompa di calore e impianto fotovoltaico o microeolico, minimo 3 kW, per un finanziamento fino a 7.500 euro. Fotovoltaico o microeolico o accumulo, esclusivamente per parti comuni condominali, per un finanziamento fino a 10.000 euro. Nessun condomino ovviamente deve avere un PDR attivo. Chi ha già un impianto fotovoltaico può accedere al bando? Sì, la potenza minima dell'impianto deve essere da 3 kW e la potenza incrementata deve essere minore o uguale della potenza impegnata al contatore. Quale assicurazione richiesta? Quella prevista dall'avviso, dalla durata decennale. Quanto durano i benefici? Un impianto fotovoltaico ha una durata media di 25 anni. Il bando è cumulabile con incentivi statali? Sì, a condizione che l'importo complessivo delle agevolazioni pubbliche ottenute, cumulate, non sia superiore al prezzo di acquisto dei beni e dei servizi agevolati comprensivi di IVA. La strategia energetica lucana sta attirando l'attenzione di tutta l'Europa. Un motivo di orgoglio per tutti noi.